Allora abbiamo scelto apposta per te uno degli stacchetti più sexy E più difficili Quindi la cosa più importante è la camminata e l'attitude Devi essere sexy, devi mostrare il tuo sex appeal E devi guardare la telecamera, l'obiettivo, capito? Devi mangiarlo Devi spaccare l'obiettivo Mangiarlo, è un termine che si usa Sì, nel gergo dei ballerini Allora i primi quattro secondi No, prima vediamo i passi I primi quattro secondi ti devi toccare tipo così Un po' sexy No, sexy tipo così Yes Così Uno, due, tre Lo schiaffo E da qua parte la camminata? Due passi Non è finito, no? No, è iniziato adesso Allora, mano sexy Switch, switch, switch Poi destra, sinistra Qua Apri le braccia Vai Dai che ce la puoi fare Poi fai Pum, pum Vai Così Chiudi Sì Ci siamo Devi guardare sempre l'obiettivo Sexy Vai maestro Ok Siamo già qui È troppo veloce Freestyle E poi Sì Freestyle Quando finisce Grazie 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 a tutti.